Anche Castiglion Fiorentino, grazie all'interessamento e all'intervento dell'assessore Silvia Del Giudice e alla collaborazione dell'avvocato Teresa Pontoriero, referente Caritas della parrocchia del Rivaio di Castiglion Fiorentino, entra a far parte del progetto Sono io il custode di mio fratello, promosso da Università per Stranieri di Siena, Caritas Diocesana di Siena e Caritas Diocesana di Arezzo, che prevede una ricerca qualitativa sugli stili di vita, salute e benessere dei cittadini coinvolti nello studio. La ricerca è stata elaborata da Carolina Scaglioso, del Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca dell'Università per Stranieri di Siena e da Giovanni Tondo, direttore della Caritas Diocesana di Siena, Colle Valdelsa e Montalcino e riguarda alcuni comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto. È un progetto che personalmente mi ha colpito il titolo, sono io il custode di mio fratello e Caritas si è sentita parte integrante di questo progetto proprio perché mette al centro la persona. Il ruolo di Caritas in questo è fondamentale nell'aiuto dei più deboli, ma anche nell'ascolto di quelle persone che vivono delle situazioni di disagio e di difficoltà e hanno bisogno di essere ascoltate. È una ricerca che si muove proprio sui piccoli centri, privilegiando la caratteristica che ogni piccolo centro in confronto alle macro realtà ha, questa disponibilità all'ascolto, alla relazione, una facilità senz'altro alle relazioni autenticamente empatiche che in realtà o più grandi o anche magari più stratificate, non possiamo né analizzare, è sicuramente più difficile relazionarci. L'occasione di utilizzare Caritas, passatemi il termine, utilizzare per raggiungere l'animo e il profondo delle situazioni di disagio che possono vivere nel nostro territorio per noi è stato veramente molto interessante perché come amministratori avremo la possibilità alla fine di tutto questo studio di poter meglio indirizzare le risorse per poter aiutare la nostra popolazione. Dato che le risorse non sono eccezionali ci mancherebbe sprecare anche solo una briciola, quindi ben venga l'attenzione sul nostro territorio.